Finalmente ci siamo, è arrivato il grande giorno, vi posso presentare in anteprima il Landi Cash Basic. Sono contentissimo di essere arrivato a questo punto perché abbiamo ideato in questi ultimi mesi con un mio collaboratore un qualcosa che non esiste nel panorama italiano, e mondiale, che vi permetterà di ottenere un profitto extra alla fine del mese o anche un secondo stipendio, a patto che voi seguiate alla lettera quello che io spiegherò nei video. Questo video sarà un video introduttivo in cui vi spiegherò in grandi linee come funziona, poi dovrete registrarvi nel sito e nel sito troverete tutto il materiale informativo, i video e tutto il resto che vi serve. Che cos'è e come funziona il Landi Cash Basic? Il Landi Cash Basic vi permette di andare a prendere, di andare a lavorare, di fare lavorare in sinergia il bookmaker e il betting exchange, perché sapete tutti che io sono diciamo, sono un trader sportivo e per me il betting exchange è la cosa migliore del mondo. Sono riuscito adesso a fare in modo che anche il bookmaker in questa fase, in questo giochino, ci possa servire e non è più così una brutta cosa come ho sempre detto, perché adesso il bookmaker ci aiuterà a ottenere un profitto extra. Come funziona il Landi Cash Basic? Il Landi Cash Basic presuppone l'apertura di un conto con il bookmaker e con il betfair exchange, perché? Perché andiamo a prendere il cashback, quindi una percentuale sulle nostre perdite alla fine del mese che il bookmaker ci riconosce o nella seconda fase il bonus ricorrente. A questo punto, questi soldi extra che ci dà il bookmaker, noi li prendiamo e ci li trasportiamo sul betfair exchange, sul nostro conto. A questo punto ci troviamo i soldi lì sopra, li prendiamo, li rimettiamo sul bookmaker e facciamo un giro circolare. Siamo riusciti ad ottenere un qualcosa che va oltre il nostro primo obiettivo che ci eravamo posti. Ci siamo resi conto in questi mesi che le persone utilizzando il cashback non riuscivano ad ottenere alla fine un profitto, perché perdere equivale a vincere. In tanti pensavano, ah beh, cosa ci vuole? Dobbiamo perdere, a perdere siamo bravi. Sì, quando cercavano di perdere andavano a guadagnare, quindi abbiamo cercato di risolvere il problema in questo modo. Sul bookmaker voi sarete sempre perdenti, sempre, sempre, sempre. Quindi il bookmaker sarà contentissimo di darvi il cashback, quindi una percentuale sulle vostre perdite, o di darvi il bonus ricorrente, perché voi lì sopra sul bookmaker sarete sempre in perdita. Questi soldi in più che vi dà il bookmaker, ve li dovete trasferire su Betfair. E come ve lo dirà il nostro calcolatore, che è un qualcosa di straordinario, che si trova nell'area riservata del sito e che abbiamo in questi mesi continuamente e completamente migliorato, per fare in modo che sia semplice per voi, ma che sia estremamente semplice e redditizio. Vi sembrerà all'inizio un pochettino, diciamo, macchinoso inserire le operazioni, ma poi vedrete che dopo che l'avete utilizzato un po' di volte non sarà più così, ma poi soprattutto, come dico sempre anch'io, un po' di lavoro da parte vostra ci sarà. In una seconda fase ci saranno delle automatazioni, in modo che voi possiate prendere, mettere all'interno del sistema pochissimi dati, perché il sistema sarà automatizzato e farà il lavoro grosso per voi. Il Landy Cash Basic, diciamo, andrà a soppiantare il Match Betting. Perché? Perché il Match Betting, che diverse persone fanno, siete sempre alla ricerca, all'apertura di nuovi conti, che il Bookmaker vi dia dei bonus. I bonus sono bonus minimi, dovete poi continuamente rollarvi e cercare, quando il Bookmaker non vi dà più il bonus aprire altri conti, qui invece non ci avete il problema. Aprite due conti, uno col Bookmaker nostro, perché il calcolatore funziona solamente con i nostri Bookmaker. Perché? Perché abbiamo settato dei parametri all'interno del calcolatore che con altri Bookmaker vi dà degli altri valori completamente diversi. Quindi tenetelo bene a mente. Per ogni Bookmaker ci sono dei parametri che abbiamo settato all'interno del calcolatore. Qui invece, ripeto, avete bisogno di due conti e basta. Andate a fare il sistema che vi farò vedere di doppie. Voi dovete andare a fare un sistema di doppie con le quote che vi diciamo noi all'interno su Bookmaker e basta. Non potete fare singoli, non potete fare nulla. Solamente un sistema di doppie in cui voi andrete a perdere per ogni operazione su Bookmaker che voi fate per ogni sistema e vi portate il profitto sul Betfair e Cicci. Questo sistema non è matematico, cioè voi non è che avete un guadagno sicuro e matematico. Però cosa abbiamo ottenuto? Se voi riuscite ad avere anche un success rate intorno al 20%, quindi su 10 partite ne potete sbagliare 8, voi riuscite a chiudervi in positivo le varie progressioni, non più al sesto, settimo, ottavo step, probabilmente all'undicesimo, dodicesimo, tredicesimo, ma vi chiudete e ripartite da zero. Perché questo? Perché il sistema fa in modo che voi dovete giocare 5 progressioni contemporanee, non una, perché se voi ne fate una solamente, la perdita, ve la portate allo step successivo, allo step successivo e questa si ingrandisce sempre di più. E quindi può essere molto negativo e pericoloso per voi. Invece il sistema cosa fa? Vi obbliga a fare 5 progressioni contemporanee in modo che voi cosa fate? Quando avete una perdita in un certo step, in una certa progressione su 2-3 progressioni, il sistema vi fa spalmare questa perdita con dei conti molto complessi sulle altre progressioni. In modo che se voi arrivate anche a un quarto, quinto step di una progressione e siete in perdita, la vostra perdita lì non è notevole. Perché? Perché quella perdita viene divisa sulle altre progressioni in cui voi, sulle altre progressioni, potete anche essere in profitto. E quindi il sistema è un sistema intelligente con una, diciamo, con una intelligenza artificiale che permette di andare a spittare le perdite sulle altre progressioni. Quindi in questo modo, diciamo, voi potete andare avanti con tranquillità sulle progressioni e come poi voi potete vedere, la vostra cassa di change, anche se perdete più volte, non è intaccata. Adesso andiamo a vedere in maniera molto veloce il suo funzionamento e ripeto, troverete tutti i video spiegativi passo dopo passo sul nostro sito nell'area riservata. Naturalmente per chi lo vorrà fare e per chi è interessato a farlo. Ecco, vedete, questo è sul sito. Io ho già fatto un sistema con 5 progressioni, con diversi step che voi, diciamo, potete vedere qui sopra. Il sistema inizialmente cosa c'ha? C'ha un pannello di controllo che vi fa vedere le 5 progressioni, qual è il cashback che voi avete maturato fino a quel momento lì, la cassa book progressioni, cosa state perdendo sul book, e la cassa exchange, le progressioni, il profitto o la perdita che voi state facendo sull'echange. Il sistema vi fa vedere poi qual è il profitto totale, che è questo, che avete fatto in quel momento, come vedete, su 5 progressioni e vedete dopo a quale step siamo arrivati. Quindi questo è il vostro profitto, potete poi bloccarvi e ripartire da zero. vediamo quindi come funziona. Vedete che c'è il pannello di controllo, c'è il window multiple, progressione cashback 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi voi siete obbligati a fare contemporaneamente 5 progressioni, per andare a suddividere, come ho detto, le eventuali perdite. Prima cosa da fare è andare a fare il sistema. voi come vedete qui, io ripeto, è già compilato, dovete andare a fare un sistema di doppie, da 6 da 7 a 10 doppie. In questo esempio è 8. Questo perché? Perché il sistema vi obbliga, tra virgolette, a fare sistemi di doppie. Dovete fare cinque sistemi contemporaneamente. Vedete, 1, 2, 3, 4 e 5 sistemi di doppie in contemporanea. e poi dovete andare a coprirvi solamente, ripeto, solamente l'ultima partita su Betfair. Vediamo subito. Allora, se voi, naturalmente il sistema di doppie dipende dal budget che avete a disposizione. Vediamo per esempio sull'articolo qua, che se voi fate, per esempio, 7 doppie con 5 centesimi, avete una spesa totale di 32 euro. Quindi io vi consiglio di partire, diciamo, o con 7 doppie o con 8 doppie per avere un 32, diciamo, di impegno sul bookmaker o 64 di impegno. Dopo potete andare a operare, che è la soluzione ottimale, il sistema con 10 doppie, con 5 centesimi, con una spesa di 256, che poi dovete dividere per 2 perché è andata a perdere circa sul bookmaker per ogni operazione il 50%. Come vedete, la percentuale di perdita va a aumentare con l'aumentare del sistema di doppie. Supponiamo, come nel nostro esempio, che abbiamo fatto un sistema di 8 doppie andando a giocare 5 centesimi, quindi con uno sviluppo di colonne di 256. Quindi per ogni operazione io, diciamo, impegno sul bookmaker 64 euro per andare a perdere ogni volta circa la metà. Quindi io cosa vado a fare? Vado a, sul bookmaker, a fare un sistema di doppie. Prendo le prime sette partite che, vedete, nei sistemi multipla 1, multipla 2, possono, anzi, vi consiglio di fare le stesse, vedete, sono le stesse partite, le prime sette le prendete a caso. Cosa vuol dire a caso? A caso. La cosa fondamentale è che le quote siano nel range 1,80, 1,82, 1,80, 1,90. Vedete, 1,86, 1,81, 1,84, 1,80, 1,82, 1,82. Dovete semplicemente prendere le prime sette partite a caso. L'importante è che ci siano queste quote. Quindi quali mercati vanno bene? Qualsiasi tipo di mercato, ok? L'importante è che non siano partite di tennis nelle prime sette, o giocatori, o qualcosa legato a un giocatore, perché se non entra in campo una partita è rinviata, ci può essere un problema. Quindi potete andare a scegliere, per esempio, il calci d'angolo, i pari o dispari di una partita. L'importante, ripeto, sono le quote. Quindi voi andate a compilare il sistema a otto doppi, in cui le prime sette sono a caso. L'ultima è la partita studiata, che può essere, per esempio, come vedete dal menu a tendina del nostro sistema, può essere un gol sì o gol no, quindi BTS sì o BTS no, un under, un over, un pari o dispari, però sul lit non c'è, un testa a testa, o può essere anche una doppia, per esempio, un 1 full time con un 1, con un X2 full time. Naturalmente, l'ultima partita, la quota può essere compresa nel range 1,60, vi potete spostare anche, arrivare anche a un 2,20, 2,30 come quota. Nell'ultima ve la, tra virgolette, è consentito. Tanto avete questo sistema, il rating. Se la quota è corretta, il sistema vi dà ok, potete andare avanti. Se invece la quota, diciamo, non va bene, il sistema vi blocca, vi dice stop, fermatevi. Quindi le quote ve lo dice il sistema, se sono corrette o non corrette. A questo punto, fate il sistema di doppie, le prime 7 a caso, l'8, l'ottava e quella studiata, quella che voi dovete sapere se può essere, può uscire BTS sì o BTS no, under e over, vedete, qui sopra, e fate il sistema di doppie. Vedete, per esempio, questo è un sistema di doppie che abbiamo fatto, vedete? Ve lo ingrandisco un attimino, vedete, queste qua sono le partite, 1,81, 1,82, under e over, sullo stesso segno, sullo stesso segno, under e over, under e over, vedete, goal no goal, e alla fine quella che si studia, in questo caso, vedete, era un under over, con la quota, vedete, possono essere un po' più elevate. Con questo sistema, quindi, torniamo qua, voi cosa sapete? Guardate qua, che avete fatto, per il primo sistema di multipla, un importo totale scommesso di 12,80 euro, in cui avete una vincita minima di 5,63, una vincita massima di 6,92. Nel nostro caso, con la partita finita, è stata 6,63. Quindi voi siete sempre perdenti, per ogni sistema voi potete vincere al massimo 6,92, quindi sul bookmaker siete sempre, sempre, sempre perdenti. È la cosa, diciamo, fondamentale, è il primo step. Quindi cosa fate? Allora, io ho già messo qui vincente, ma quando, io adesso metto, non metto nulla, fate alla sera prima, vi studiate le partite, le 5 multiple, le prime 7 a caso, e vi studiate l'ultima partita, nelle 5 multiple. Io vi consiglio di fare le ultime diverse, le potete fare anche su una stessa partita. Per esempio, su una stessa partita, potete fare l'under over, il goal single no, potete fare, per esempio, il 2 e l'1x. Perché questo? Perché in questo modo, sicuramente, una di queste, l'andrete a prendere, se ne fate tre così. È dura che tutte e tre le sbagliate. A questo punto, una delle progressioni sarà in profitto. Ed è già una cosa, diciamo, molto positiva, come vedremo. Quindi, voi fate la sera prima il sistema, con le 8, ok? Mettete tutto dentro, lo fate sul bookmaker, e basta. La mattina dopo, andate a vedere i risultati. Io dico la sera prima e la mattina dopo, ma è importante, tra le prime 7 e l'ultima, che passi almeno, almeno, due ore e mezzo, tre. Perché dovete avere il tempo di vedere come sono andati i sistemi, e poi, e poi giocarli. Quindi, vedete qui sopra, supponiamo che siamo alla mattina, il sistema, il sistema, le partite sono finite, e andate a vedere i risultati. Qui sopra ve le potete annotare, vi potete annotare la data, il match, il segno, e vabbè, e le quote, naturalmente. Andate a vedere, per esempio, questa qua, under over, è finita con la vittoria, con, diciamo, quello che avete messo, l'under 2,5, il segno A, è uscito under, mettete V, vittoria, P persa, V vittoria, P persa, V vittoria, V persa, e via dicendo. E scuso l'ultima, naturalmente, che devo ancora andare a giocare. Il calcolatore, a questo punto, vi darà i parametri magici. Recupero A, recupero B, giocato. che dovete andare a mettere dall'altra parte. E questa partita, naturalmente, si deve ancora giocare, e la lasciate, diciamo, vuota, è fatta così. Andiamo sulla seconda parte, quindi, e questo se l'avrete per tutti, e 5, i nostri sistemi. Andiamo avanti, e andiamo a vedere nella progressione cashback 1. Nella progressione cashback 1, vi trovate già il Rec A e il Rec B, ve lo già trovate, già messo qui sopra, che lo dovete andare a ricopiare nella primo step. Mettete quindi nel primo step, Rec A, Rec B, è giocato, adesso questi non coincidono perché è la partita 9 che, naturalmente, deve ancora essere giocata. Mettete il Rec A e Rec B qui sopra, mettete il segno, naturalmente, è giocato, e mettete, e il sistema, appena voi avete messo BTS, sì, vi dice qua, se dovete puntare, o bancare, il segno. Il sistema vi dice, per esempio, vedete, punta BTS no, banca BTS no. In automatico, a quel punto, dovete andare a inserire nella quota A, la quota A, la quota di puntata del BTS no, perché ve lo dice, punta BTS no, quindi dovete mettere la quota in puntata, banca BTS no, dovete andare a mettere la quota in bancata, 2 e 12, ve lo dice il sistema. A questo punto, mettete le quote, e il sistema vi dice che dovete andare a puntare, qua vedete, punta BTS no, con un importo di 3 e 50. Fine. A questo punto, andate su Betfr, mettete, andate a fare, il punta BTS no, quindi gol no, con un importo di 3 e 50. Finito il lavoro. lo fate per la progressione 1, la progressione 2, stesso discorso, prendete il REC A, che ve lo trovate qui sopra, mettete REC A, REC B, giocato, mettete il segno BTS sì, il sistema vi dice, se punta BTS no, banca BTS no, e mettete le quote relative. Il sistema questa volta, vi dice, andate a puntare, punta BTS no, 5 euro, e lo andate a inserire qui sopra. Basta. Questo è il lavoro che voi dovete fare. Progressione 1, progressione 2, progressione 3, progressione 4, e di conseguenza tutte le altre progressioni. E avete finito. Finita la partita, andate a mettere, ad aggiornare il segno. Io qua ho già messo segno win, se naturalmente, se lose mettete lose, se win mettete win, supponiamo che sia win, mettete win, e a posto. Potete andare a aggiornare, se volete, dall'altra parte, però una volta che avete messo win, il sistema vi fa l'aggiornamento. Vi dice, qual è la cassa step della progressione 1, la cassa exchange, la vostra cassa exchange, la cassa book, il cashback che avete maturato, il profit loss di questa progressione, e il profit loss totale delle 5 progressioni assieme. In questo caso, vedete, è meno 23. Noi abbiamo fatto, con questo esempio, ho fatto, diciamo, ho supposto di perderne anche, diciamo, 2 o 3 di fila. Abbiamo fatto, non abbiamo fatto una cosa che va a nostro favore, abbiamo fatto una cosa con diverse perdite. Quindi, io ho messo, vedete, c'è questa perdita. quindi, il primo step è finito, e il sistema, quando a voi andate nel pannello di controllo, vi darà la situazione della prima progressione, adesso siamo all'ottavo step, del primo step, qual è il risultato? Cashback, cassa book, exchange e progressione. E siamo, diciamo, a posto. Adesso, dobbiamo andare a fare il secondo step. State bene a sentire quello che dovete fare. Nel secondo step, dovete andare a rinserire le partite, come ho spiegato prima, però questa volta, qui sopra, ci sarà segno in sofferenza, mettere segno perdente in multipla. Segno A. Quindi, voi dovete andare a mettere nella multipla il segno A che, in questo caso, deve essere perdente. Dovete cercare di fare in modo che il segno A sia quello perdente. Questo è l'unico lavoro che dovete fare. E in questo caso, ho detto, ne potete perdere anche, diciamo, l'80%, circa, per chiudere poi, positivo. Quindi, segno perdente in multipla segno A. Stesso discorso, vedete infatti, che il calcolatore ve lo dà, qua, ripeto, quello lì è nonno step, io qui sono al secondo, perché l'ho già compilato. Però, quando voi avete compilato il win A, il sistema vi dice segno da andare a perdere, il segno, quello che è, il segno A. Quindi, questa volta, voi dovete andare a fare in modo che il BTSC sia perdente, perché il sistema che tiene conto, fa vedere di tutte le 5 progressioni assieme, fa dei conti molto complessi assieme, lui sa qual è il segno con cui voi dovete andare a perdere. quindi, in questo caso, è il segno A. Andiamo a rifare le multiple, rifacciamo sempre il sistema di 8 multiple, le prime 7, sempre a caso, scelte a cazzum, le mettete tutte, 1, 2, 3, e l'ultima questa volta. Nella prima, deve essere segno perdente, segno A, questo è il segno B, questo è il segno A, segno A, e segno B. e mettiamo tutto il nostro sistema. A questo punto, mettiamo le prime 7, attendiamo la conclusione delle partite, il sistema, mettiamo win, vinta, persa, vinta, persa, vinta, persa, il sistema ci dà recupero A, recupero B, e giocato. Dobbiamo andare a mettere, andiamo sulla progressione, cashback 1, ci ritroviamo questo parametro qua, lo copiamo nel secondo step, secondo step, mettiamo il BTSC, quello che abbiamo scelto di là, che me lo dice già qui sopra, a questo punto, devo andare a perdere nel segno A, quindi devo andare a cercare di perdere nel segno A, rimetto tutto, il sistema mi dirà, punta BTS no, banca BTS no, rimetto le quote, e a questo punto, vado a vedere se ho perso, in questo caso, segno A, ho perso nel segno A, quindi metto lose, e vado avanti, e a questo punto, per tutte le 5 le progressioni, il sistema mi dirà, nello step successivo, che lo devo fare. Quindi avete capito, che il sistema va avanti da solo, guardate, andiamo avanti, vedete, io ho già fatto 8 step, all'ottavo step, pur avendo delle progressioni, vedete, con diversi lose di fila, o win di fila, quello che è importante, è che i segni siano alternati, che l'ideale sarebbe, di averci un win, lose, win, lose, win, lose, win, lose, quando ho un serie, 3 di fila positive, o 4 di fila negative, il sistema, tra virgolette, va in sofferenza, fa dei calcoli particolari, e vi dà il segno, quindi fa tutto il sistema, come andate a vedere, questo è il profit loss, totale, delle 5, al settimo step, all'ottavo step, io sono arrivato, vedete, ad averne circa 152 euro di profitto, andando a fare sistemi di 12, di 5 sistemi di 12,80. Quando arrivate ad avere su un giocato, diciamo totale per step, guardate qui, per farvi vedere meglio, voi andate a fare 12,80 per 5, andate a giocare all'incirca 60 euro, per ogni sistema, quando avete circa 2,3 volte, quell'utile, che vi trovate in progressione, quindi io qui, per ogni step, vado a fare 60 euro, quando voi, vi trovate, nella progressione, arrivare al, settimo, ottavo, nono step, in cui, io ho 2,3 volte, quel profitto lì, come vedete, 152, qua, consigliamo, di fermarsi, stoppare tutto, e ripartire da zero, avete messo in cassa, questi 152 euro, che è il vostro profitto, come vedete, qua il sistema, all'inizio, noi abbiamo messo diverse perdite, ero in, perdita di 23, secondo step 48, terzo step 68, al quarto step, più o meno a zero, quinto step positivo, 32, 23, meno 17, più 152, io qua, mi posso fermare, ho chiuso le mie progressioni, e posso ripartire da zero, reset tutto, e riparto da zero, guardiamo nel pannello, cosa abbiamo, il pannello di controllo, cosa mi dice, di questi 152 euro, di profitto totale, io ne ho, 98 di cashback, che il bookmaker, mi deve ridare, alla fine del mese, 98, la mia cassa exchange, ok, che è partita da 1000 euro, da 1000 euro, è andata a 1300, e quindi mi trovo, 300 euro in più, di quelli di partenza, il mio bookmaker, la cassa bookmaker, avevo 500 euro, adesso me ne trovo 252, perché ne ho persi 247, però c'ho in più maturato, 98 di cashback, che mi viene dato, alla fine del mese, profitto totale, 152 in 8 step, diciamo in 8 giorni, con un rischio, con un grado di rischio, veramente, veramente minimo, quando poi, ci sarà la versione bonus ricorrente, voi non avrete più il cashback, ma in automatico, i vostri soldi, che avete, cassa iniziale, più la cassa, diciamo, del book, avrete quel cashback, quel bonus, sommato in più, che ve lo avete tutti i giorni, a quel punto, non dovete più aspettare, la fine del mese, che il bookmaker, vi ridia i soldi, ma avete il bonus, sempre in più sul conto, voi perdete, vi mette il bonus, e ripartite da zero, avete quindi ben capito, qual è il sistema, e le potenzialità del sistema, vi permette, di fare dei profitti, diciamo, in maniera costante, a vari step, con un grado di rischio, veramente, veramente basso, guardate, qua, se io, in questa progressione, che è veramente negativa, ce ne metto un altro lose, qui di fila, guardate, questa è la situazione, più, diciamo, tra le più negative di tutte, guardate, quanti lose di fila, ho, sulla prima progressione, andiamo a vedere, ecco, in questo caso, addirittura, mi porta un profitto, in questo caso, di 14, 17, alla fine, andiamo a vedere, di metterla naturalmente, devo mettere un'altra, su un'altra, mi ne metto qui un altro lose, qua, guardate, andiamo a vedere il sistema, cosa ci porta, ci porta 378, andiamo a metterle sulla terza, mettiamone, guardate, mettiamone un'altra lose, qua, negativa, guardate, all'ottavo step, dove arrivo, su questo, su questo profitto, andiamo a metterne un altro, per esempio, un altro win qui, vado a intaccare, un attimino, e vedete, qual è, il profitto, che ottengo, guardate, 299, cioè, vi ho fatto vedere, come, andando a variare i parametri, il sistema, il sistema, come vi fa variare, vedete, quindi, capite bene, quali sono, le potenzialità, del sistema, come, come funziona, e quindi, avete, avete, insomma, capito, quali sono le potenzialità, ripeto, non è complicato, è semplice, dovete solamente, capirne il funzionamento, soprattutto, diciamo, con l'uso del calcolatore, metterò tanti video, sul sito, e dopo l'avete utilizzato, 2, 3, 4, 5 volte di fila, vi renderete conto, ancora di più, la potenzialità, il funzionamento, e la logica del sistema. Vi lascio, vi lascio, se siete interessati, andate sul sito, registratevi, troverete tutto il materiale, e troverete il calcolatore, per fare tutte le vostre prove. Vi saluto. BenSound.com BenSound.com